È stato un violento scontro quello che si è verificato ieri pomeriggio nel centro di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Il sinistro è avvenuto nella centralissima via Madonna di Fatima, dove per causa in corso di accertamento una vettura si è scontrata con il furgone di un corriere. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, tanto che sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale. Sono stati necessari i punti per sotturare una ferita e accertamenti radiologici per le contusioni riportate. Per gli altri due protagonisti a bordo dei mezzi coinvolti fortunatamente non ci sarebbero lesioni significative. I mezzi, infine, avrebbero riportato danni ingenti, soprattutto l'autovettura.